Reclutavano ragazze colombiane e marocchine per poi costringerle a prostituirsi nelle roulotte lungo la strada provinciale 231, in particolare nelle contrade Ilderis e Vigne Montane. Si tratta di tre persone, un italiano e due colombiani, arrestati su ordine del giudice per le indagini preliminari di Trani, Francesco Zecchillo, dopo la richiesta del PM Luigi Scimè. Una operazione condotta dall'Unità Operativa Stranieri e Prostituzione della Polizia Municipale di Terlizzi e coordinata dal maresciallo Nino Barione. Per inchiodare i presunti responsabili, gli agenti hanno dovuto effettuare numerosi appostamenti, anche di notte avvalendosi anche di foto e video per documentare l'attività svolta. Al termine delle indagini, l'italiano è finito subito in carcere, mentre i due colombiani sono tuttora ricercati. Soddisfatto il sindaco di Terlizzi, Nini Gemmato, che ha ringraziato tutto il personale coinvolto nell'operazione. Si tratta di un risultato importante, ha detto Gemmato, e ora esprimiamo massima fiducia per il prosieguo delle indagini. Come amministrazione continueremo a lavorare per il massimo controllo del territorio, fornendo supporto e collaborazione con gli strumenti a nostra disposizione. Una collaborazione chiesta anche agli stessi cittadini invitati a fornire tempestivamente alle autorità di polizia qualsiasi indicazione possa essere d'aiuto nel contrasto della criminalità. Grazie a tutti.